Grazie a tutti, io ringrazio a nome dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, la presenza vostra qui è importante, il rapporto ormai con voi, con Cristina è ormai deutura da 5 anni, noi ci collaboriamo e mi ha fatto molto piacere organizzare questa piccola manifestazione sperando che arrivi ancora un po' di gente, però su questa tematica qui dobbiamo combattere ancora molto perché la sensibilità delle persone è ancora molto, molto, molto distante, finché non vengono toccati in prima battuta non se ne accorgono che è un pericolo, noi dobbiamo lottare affinché l'auto ritorni a essere un mezzo di trasporto e non un'arma in mano a dei delinquenti praticamente. Grazie a tutti e adesso possiamo cominciare?